Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova analisi weekly settimanale sul DAX, sull'indice tedesco, con la mia analisi evoluta. Taglio subito i preamboli e vi racconto che cosa ho raccontato al gruppo premium qualche giorno fa. Ho raccontato che la situazione del DAX sembra in questo momento pretombale. Perché? Perché dopo aver fatto un mensile di questo tipo, con tra l'altro un raccordo che ci ha portato a chiuderlo, da qui abbiamo un'evidenza pesante, da questo minimo qua del 12,4. Andiamo a guardarlo sul 15 minuti. Torniamo al 12,4. Eccolo qua. 12,4. Ebbene, su questo massimo, purtroppo, avremmo lo swing per la partenza di un nuovo mensile. Quindi, che cosa sembra essere successo? Sembra essere successo questo. Partenza di mensile con violazione corretta dello swing e tempo corretto, perché bastano 24 per 6 barre. Ne abbiamo molte di più prima che si vada in violazione di questo minimo. Ecco qua. E poi, vincolo a ribasso. Quindi abbiamo, nella realtà di fatti, un mensile già completamente vincolato a ribasso. Questo è quello che dicono swing e dice il tempo ciclico. Abbiamo anche, peraltro, uno, due... Anzi, allarghiamo, perché questa è la parte che serve. E il resto è un di cui. Di cui potete prendere, peraltro, nota. Qui abbiamo, appunto, che dopo un mensile, se da qui è partito un altro mensile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barre sopra questo massimo, e poi si è scesi qui sotto, si è scesi sotto il massimo di partenza, e quindi è completamente vincolato a ribasso. Per quanto tempo? Minimo 24 barre. Siamo a 11. Quindi rischiamo di avere tutti i rimbalzi del gatto morto. Ok? Qui, peraltro, abbiamo una divergenza piccola, ma divergenza ribassista. Massimi crescenti, massimi decrescenti. E abbiamo visto come ha chiuso Wall Street venerdì. Il DAX segue Wall Street, per cui si rischia pesantemente una discesa, perché se già il primo settimanale si vincola a ribasso, c'è ben poco altro da raccontarsi. E come detto, siamo a 11 giorni sul minimo 24, quindi l'imprimatur sarebbe shortare i top sul DAX. Shortali per parecchio, oltretutto per altri minimo 13 giorni. Quasi 3 settimane di borsa aperta. Lato inverso, andiamo a vedere anche quello. Lato inverso, siamo arrivati a primo T più 1 inverso, primo B settimanale inverso, da 15 barre, e poi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del terzo T inverso. Abbiamo qui la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura qui di un settimanale inverso, di un terzo settimanale inverso? Oh, caspita, sì. Qui abbiamo in realtà 20 barre, ma se lo facciamo partire, no. Qui solo c'è, c'è sta confusione che non so, perché ci siamo 20 barre. È una roba che è affascinante. Ma se partiamo da qua, non mi ricordo più quanto siamo, 56, no, infatti. Si è mangiata una barra? Vedremo. Da qui non può partire, da qui non può partire, per cui abbiamo che il conteggio corretto è comunque questo, 20. Poi, se vorranno aprire in Gapdown lunedì, vedremo perché i future non erano molto clementi, appunto, fino a venerdì pomeriggio stesso, quindi fino a ieri. La situazione è questa. Ogni volta che si rimbalza, si rischia di ritornare di nuovo pesantemente a scendere per il vincolo che, come abbiamo detto, nasce da qui. E nasce dalla violazione dello swing che vi ho fatto vedere. Per cui, in campana, anche in questo caso, facciamo attenzione perché se il nostro DAX ha la facoltà di scendere e abbiamo avuto una violazione almeno di un T più 3 di swing, e qui siamo comunque a 37 giorni sul minimo 48. E se vogliamo scenderlo a 26 più 11, ribadisco, ci sono almeno minimo 13 giorni di tentativo di salita e il ritorno a discesa molto più forte. Per cui fate estremamente attenzione, anche per il fatto che, se guardiamo gli allegamenti grafici con molta semplicità, qui stiamo facendo una fatica mostruosa a provare a rompere la media mobile in rosso la più veloce delle due, che tra l'altro è andata in death cross. Quindi niente affatto bello come segnale. D'accordo? Direi che altre cose particolari non ci sono da raccontarsi. Da qui è partito un nuovo T più 3 trimestrale inverso. vediamo che spinta rischia di avere se si rischia di ritornare in quest'area qua, attorno ai 12.500. Grazie per l'ascolto e buon weekend a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti.